E' per me una grande emozione parlare di Francisco Salsillo, insegno nel liceo classico Cneonevio di Santa Maria Capovetere, mi chiamo Rosalba Salsillo. E' ammirevole che la città di Murcia abbia onorato il genio di questo artista in un museo che oggi compie 60 anni. L'Italia, terra di origine dei Salsillo, conosce appena la sua grandezza. Infatti sono dieci anni che il maestro Zacarias Sereso chiede insistentemente alla città di Santa Maria Capovetere un gemellaggio con Murcia, ma non ha ottenuto ancora risposte concrete. Mi auguro che in un prossimo futuro, con la sua attuazione, si possa valorizzare quel ponte che Nicola Salsillo ha gettato tra Santa Maria Capovetere e Murcia, tra l'Italia e la Spagna. Auguro lunga vita al museo e ad Maiora. Grazie. 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 Grazie.